dati positivi per l'export ma un quadro generale ancora in difficoltà con un'economia che si evolve e si adegua alle esigenze del mercato e quanto emerge dai dati elaborati dal centro su di cna presentati a pesaro alla bmg un'azienda specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione durante l'appuntamento ormai tradizionale di fine anno il presidente barilari e il direttore generale bordoni hanno tracciato un bilancio sull'economia locale e sulle prospettive 2020 ancora negativo il dato per le imprese attive in provincia di pesaro rubino nei primi 11 mesi dell'anno si registra un calo di 252 unità i settori più in affanno a livello regionale sono l'agricoltura e il commercio quest'ultimo in particolare ha subito un grande cambiamento dovuto all'avvento del commercio online in italia ad esempio i due terzi degli acquisti per i regali di natale sono stati fatti su internet a crescere d'altra parte sono le attività di servizio alle imprese quelle finanziarie assicurative ma anche il settore del noleggio e l'agenzia di viaggio segno negativo infine per il mercato del lavoro con l'offerta diminuita del 10 per cento circa un dato comune a tutte le province della regione con lievi differenze si confermano ad essere fiore all'occhiello invece le esportazioni che hanno subito una crescita vicina al 12 per cento ben più marcata di quella regionale e dovuta soprattutto alla nautica di lusso con quasi 194 milioni di euro possiamo guardare futuro con un occhio un po più ottimista del passato perché abbiamo gli anticorpi pesaro dopo tanti anni è la provincia che nelle marche eccelle come abbiamo sempre fatto in passato ma come anche abbiamo sofferto più degli altri quindi stiamo risalendo la china questo è un segnale molto importante che voglio dare a tutti è un segnale di fiducia e quindi per il prossimo anno grande impegno naturalmente come sempre le nostre imprese sono abituate a lavorare quindi andiamo avanti la cna continua ad impegnarsi per sostenere le imprese invocando una forte riduzione della burocrazia e agevolazioni per quelle aziende che intendono affacciarsi alle nuove tecnologie i nostri imprenditori che vanno all'estero sono riconosciuti come imprenditori molto seri con un prodotto a grande valore aggiunto e devo dire la verità questo è un'ulteriore soddisfazione in un paese in cui tra tassazione e burocrazia non è certo facile fare gli imprenditori questi sono ostacoli che non hanno comunque fermato la grande voglia di imprenditorialità della nostra impresa ogni 9 cittadini ce n'è uno che intraprende noi come associazione in primis ma anche come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo in qualche maniera fare in modo che questi imprenditori si sentano accompagnati nel loro processo anche di vita imprenditoriale e che possano davvero in maniera concreta sentire l'appoggio insomma di tutto un distretto perché le speranze della nostra economia futura proprio è emessa nelle loro mani è un'ulteriore soddisfazione